La settimana è stata fantastica, certamente l'abbiamo usato come training, siamo ancora a gennaio quindi è buono avere una basse per tutto il campionato che sarà molto lungo, ci siamo allenati tipo 6-7 ore al giorno, mattina e pomeriggio, abbiamo fatto anche un po' un gruppo, un'atmosfera molto buona tra noi, condividendo del tempo con gli altri piloti, giocando a carte, pranzando, ceneando, sempre scopri delle cose buone sui nostri compagni e penso che il gruppo è più unito e più allenato, quindi è stata una settimana fantastica. Questa settimana è stata abbastanza buona per noi, ovviamente siamo in gennaio, è il reale training che facciamo e è bello avere una buona base per la lunga settimana, quindi abbiamo chiesto Lanzarote in Spagna per il tempo, è circa 25 gradi ogni settimana, quindi trainiamo molto in bicicletta, running, swimming, quindi facciamo molti sport, e credo che ci siamo piaceremo, anche perché abbiamo trovato un po' di tempo con i nostri amici, con i altri piloti, con alcuni staff del team, quindi abbiamo creato un'atmosfera molto buona atmosfera anche per tutta la settimana, quindi è stata un'ottima settimana e un buon training per noi anche. Basta! Cattol! Cattol! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.